Comunicando, comunicando, intanto della vita io mi sto innamorando, comunicando, comunicando. Amiche e amici di Volumbrite, siamo qui con Elena Menin dell'Associazione Artenne. Ciao, volevamo chiederti perché secondo te è importante la vostra partecipazione a questo evento, i dialoghi sulla salute? Io penso che sia importante parlare di arte e collegarla anche agli ambiti più sociali perché l'arte non è soltanto chiusa all'interno dei musei o comunque qualcosa di molto lontano da noi ma credo che sia un modo per comprenderci e capirci meglio e anche per andare ad indagare un po' l'ambiente che ci sta attorno passando per dei linguaggi diversi che muovono anche le nostre emozioni, il nostro sentire, quindi ci fanno stare bene e si collegano secondo me al rispetto per il proprio essere, per il proprio sé. Bene, grazie. Adesso volevamo farti un'altra domanda un po' più personale, diciamo. Cosa fai tu per la tua salute? Cosa faccio io per la mia salute? Questa è una bella domanda. In realtà io cerco di coltivare le mie passioni, quindi magari dedico del tempo a me stessa, magari vado a vedere una mostra, magari esco dal lavoro, sono stanca però arrivo a casa e continuo a portare avanti i progetti che mi interessano, che sono legati all'arte, alla cultura e cerco sempre di alimentare i miei interessi. Bene, grazie, grazie e ciao a tutti. Comunicando, comunicando.